Una bellissima sensazione quella di un paese che anche qui in Campania ha tante luci oltre le ombre che conosciamo e sulle quali lavoriamo con la disponibilità di tanti imprenditori che sono venuti ai nostri incontri, nelle tre province che abbiamo toccato, Napoli, Salerno e Caserta fino alla tappa conclusiva della Cira, un orgoglio del paese in Europa e nel mondo. Abbiamo bisogno di dare luce alle luci, lo facciamo insieme a Raffaello Vignali e all'Intergruppo della Sussidiarietà che tiene insieme circa 300 parlamentari di tutti gli schienamenti politici per proporre durante questo semestre di presidenza italiana un impegno supplementare che porterà una proposta capace di incrociare le questioni che stiamo raccogliendo in questo bellissimo viaggio che dà l'occasione a chi come noi è spesso chiuso nel palazzo di toccare con mani i problemi e di valorizzare quello che di più positivo c'è nel nostro paese. Sicuramente c'è un'esigenza di dialogo fra molti centri decisionali e quindi una necessità di coordinamento. Abbiamo raccolto in tutti e tre gli incontri di queste prime due giornate questo disagio di chi ha delle possibilità e dialogano con il luogo delle opportunità concrete. Bisogna mettere insieme le persone, noi lo proviamo, stanno insieme come parlamentari e quindi dando l'esempio da forze politiche diverse e girando insieme i territori italiani. Questo è un primo punto. Poi ci sono delle norme che sono state già segnalate e quindi avremo presto dei testi che portano su standard europei la nostra frontiera di sviluppo. Basta poco, lo dobbiamo fare nel semestre di presidenza italiana dell'Unione, rendere più moderna, efficace e quindi europea la nostra realtà. Gli imprenditori non chiedono grandi cose, non chiedono più miracoli, non chiedono più soldi, non chiedono più grandi infrastrutture. Ci chiedono una semplificazione che sia comprensibile e non, come è stato purtroppo nel passato, una semplificazione che è spesso complicato.